Molti ci chiedono come mai noi non facciamo vedere i nostri trattamenti nei video. Beh, noi utilizziamo una tecnica speciale che si chiama Katman, che è una tecnica che insegniamo negli Stati Uniti. Questa tecnica prevede un grande scambio empatico e energetico con la persona trattata e questa sensazione non si può per me assolutamente trasmettere attraverso un video che poi si posta nei social. In più, per vedere i trattamenti non sarebbe corretto verso le persone che spendono tanto tempo e sono super qualificate e che vengono ai nostri corsi. Perché purtroppo abbiamo visto che altri malintenzionati vanno a vedere i video o fanno dei corsi da weekend senza essere qualificati e utilizzano quelle tecniche sulle persone che loro trattano. E secondo me non è una cosa assolutamente giusta da fare.